che ha votato. Dichiaro chiusa la votazione. 287 favorevoli, 21 contrari, la Camera approva. 5.1 Galgano, il parere contrario della Commissione del Governo, non ci sono interventi. Ah, Galgano chiede di intervenire. Prego. Sì, grazie Presidente. Noi lo manteniamo, manteniamo questo emendamento e anche il successivo per indicare che la piccola dimensione è un valore da preservare e che noi dovremmo avere condizioni di proporzionalità e che facilitino la piccola dimensione e poi misure che la facciano crescere. Non ci devono essere misure autorizzative punitive che la precludano a priori. Ed è per questo che manteniamo entrambi gli emendamenti. La ringrazio, collega. Non mi pare ci siano altri interventi. I pareri sono contrari. Dichiaro aperta la votazione. Murer. Bolognesi. Greco. Dall'osso. Romele. Piepoli. Qualcun altro? Romele. Scopelliti. Mi pare che abbiano votato tutti. Dichiaro chiusa la votazione. 48 favorevoli, 266 contrari. La Camera respinge. Adesso passiamo agli identici. 0,5,200.